benvenuti su clodiomasci.com proseguiamo la guida agli antivirus con l'antivirus di Trend Micro devo dire che per questo video avrei voluto fare Norton però per poter scaricare la versione di prova obbliga a creare un account e inserire i dati di pagamento di una carta di credito quindi per il momento ho saltato Norton poi vedo se riesco a trovare il file di installazione senza inserire i dati della carta altrimenti non credo che farò la recensione di Norton comunque per quanto riguarda Trend Micro andiamo a vedere i diversi prodotti offerti fondamentalmente come per la maggior parte delle versioni degli antivirus abbiamo tre versioni dell'antivirus di Trend Micro la versione base Antivirus Plus Security poi abbiamo l'Internet Security e la Maximum Security cambia in effetti poco per quanto riguarda la sicurezza effettivamente potrebbe andare bene anche Antivirus Plus comunque andiamo a vedere i dettagli delle tre versioni scorriamo in basso ok abbiamo il numero di dispositivi per l'antivirus 1 mentre per la Maximum Security ne abbiamo tre protezione contro i ransomware per tutte e tre machine learning avanzato per tutte e tre protezione di truffe via email per tutte e tre le versioni Trend Micro Pay Guard quindi la protezione dei pagamenti per tutte e tre protezione dei minori online solamente per Internet e Maximum Security tutela della privacy sui social media solamente per le due versioni più avanzate soluzione dei problemi del sistema e ottimizzazione delle prestazioni solamente per queste due protezione dei dispositivi mobile solo per la Maximum come dico spesso teoricamente ci potrebbe bastare la versione base comunque vado sulla Internet Security che è più o meno la versione che scelgo sempre per tutti gli antivirus andando a vedere i prezzi devo dire che sono davvero bassi rispetto alla concorrenza quindi abbiamo 19,95 per quella base comunque andiamo ad analizzare la Internet Security abbiamo 37,46 per il primo anno e poi 49,95 dalla schermata di confronto possiamo solamente acquistare comunque se andiamo su scarica strumenti gratuiti abbiamo prima i vari strumenti gratuiti poi scorrendo in basso abbiamo la prova delle varie versioni quindi andiamo su Trend Micro Internet Security clicchiamo su scarica clicchiamo su download for free intanto possiamo vedere che l'installazione è abbastanza grande quindi penso che scarichi l'intero antivirus quindi non si dovrebbe collegare online anche perché 440 MB e poi si collega online e scarica il resto è tantissimo per un file di installazione comunque rispetto alle alternative è sicuramente una dimensione più grande probabilmente quindi come detto ci sarà l'intero antivirus non sarà necessario cioè sicuramente si aggiornerà online perché le definizioni le scaricherà però dovrebbe riuscire a scaricare e a installare velocemente tutto direttamente dal setup avviamo quindi l'installazione ok sta estraendo i file compressi intanto mi dice che sta installando cioè sta scaricando Trend Micro Maximum Security ma io avevo scelto la in security vedremo se poi durante l'installazione possiamo scegliere o comunque nella prova possiamo provare solamente questa versione ok decompressione completata sta controllando il sistema poi ci chiederà il numero di serie spero di poter mettere un periodo di prova senza dover effettuare una registrazione comunque la verifica del computer pronto per la chiusura di altri programmi vabbè mi vuole chiudere Edge ok chiudiamo Edge continua versione di prova perfetto avanti divulgazione dati personali va bene contratto di licenza ok diciamo che sotto l'aspetto dell'installazione è abbastanza semplice perché non chiede molto però comunque ci sono abbastanza schermate in più rispetto alle altre alternative generalmente preferisco qualcosa di più semplice comunque niente di troppo complicato comunque partita l'installazione ovviamente durante l'installazione ci mostrano vari punti di forza della loro suite di sicurezza comunque continua a scrivere maximum security quindi probabilmente si può testare solo la maximum security ok l'installazione è abbastanza rapida comunque lo immaginavo considerando che nel file di installazione ci dovrebbe essere quasi tutto quindi si collega poco online deve scaricare poco online ok penso di essermi sbagliato invece perché per avere già tutto sul pc è abbastanza lenta quindi effettivamente ho visto installazioni molto più rapide scaricando tutto online quindi con dei file di installazione di pochi kilobyte ci mettevano molto meno tempo quindi l'installazione non mi sta piacendo molto ma proprio in generale sia per tutti i vari passaggi direi che non è il massimo può essere sicuramente migliorata ok a fine installazione ci troviamo l'attivazione della protezione quindi possiamo inserire un indirizzo email in questo caso non lo andrò ad inserire e abbiamo due icone sul desktop la prima è la protezione dei pagamenti e la seconda è per la suite di sicurezza vera e propria clicchiamo su fine vediamo se si apre la schermata della suite di sicurezza non si apre forse ci sta mettendo un po' ok eccola ok benvenuto in Trend Micro Maximum Security sì come detto possiamo provare la versione più completa ora il pc è protetto fornisce una protezione altamente efficace va bene difesa contro malware blocco delle minacce web soluzione leggera ok vediamo su altre funzioni in famiglia si usano ok qui abbiamo delle domande non ci interessa è possibile continuare a scoprire facendo clic ok questa è la schermata intanto torniamo indietro questa è la schermata iniziale di Trend Micro Maximum Security quindi abbiamo un tasto centrale che ci permette di effettuare la scansione con una freccia dalla quale possiamo scegliere il tipo di scansione le impostazioni i rapporti sulla sicurezza quindi i log sulle scansioni effettuate possiamo controllare i dispositivi privacy, dati e informazioni sulla famiglia e poi ovviamente possiamo acquistarlo perché siamo in versione di prova andiamo a vedere nel menu abbiamo le informazioni qui abbiamo altre informazioni e qui abbiamo altre informazioni quindi le impostazioni le abbiamo solamente qui per quanto riguarda le impostazioni abbiamo le varie impostazioni sulla scansione i tipi di scansione abbiamo una protezione adattiva quindi si adatta passa da un livello di protezione all'altro incrementi il livello di protezione solo laddove è necessario non ci dice in che modo sceglie di incrementarlo però comunque quindi si adatta da normale a molto alto non so bene in base a cosa elimina automaticamente i file che mostrano segnali di minacce elimina potenziali programmi indesiderati automaticamente questo magari potrebbe segnalarlo piuttosto che eliminarli automaticamente elimina programmi gioca automaticamente visualizza un avviso ok controllo stato del pc qui abbiamo la verifica delle vulnerabilità di alcuni software verifica di presenza dei file di sistema abbiamo le scansioni pianificate per quanto riguarda quindi controllo internet ed email abbiamo le minacce web blocco dei siti potenzialmente pericolosi con un grado di protezione normale la toolbar sui siti web sui browser supportati abbiamo il controllo delle email in outlook ok per quanto riguarda il firewall non c'è un firewall personale per trend micro ma si appoggia a quello di windows vediamo attiva il firewall booster per migliorare le protezioni del windows firewall che cliccando non apre nulla comunque come ho detto in altri video ok sono su macchina virtuale quindi è generalmente più lenta rispetto a una fisica comunque non ha un firewall suo ha una migliore protezione rispetto al windows firewall avendo questo firewall booster che rileva programmi botnet che possono acquisire il controllo del computer quindi non c'è una migliore personalizzazione quindi sicuramente per quanto riguarda il firewall un punto a sfavore di questa suite di sicurezza perché penso che per le suite complete di sicurezza il firewall sia fondamentale e l'assenza lo rende semplicemente un antivirus si ha altre funzionalità ma non le vedo così necessarie come invece è un firewall poi abbiamo l'elenchi di eccezione in altre impostazioni possiamo migliorare la protezione dell'avvio di sistema quindi i driver del software di sicurezza si caricano prima di tutto il resto oppure possiamo scegliere prestazioni quindi viene avviato windows in questo caso si avvia più rapidamente ma c'è meno sicurezza all'avvio quindi ottima l'impostazione le impostazioni di rete sono quelle classiche condividi informazioni generalmente io preferisco sempre disattivarle perché non si sa mai quale informazioni si condividono la password di sicurezza sfondi e animazione vabbè una cosa extra animazioni sfondi sì possono piacere personalmente preferisco che sia il più pulito possibile andiamo a vedere su dispositivo ok abbiamo le impostazioni di sicurezza le diverse informazioni sul dispositivo per la privacy possiamo effettuare una scansione della privacy per eventuali falle di sicurezza per i dati qui possiamo proteggere alcune cartelle quindi impedire ai ransomware di bloccare alcune cartelle l'eliminazione sicura dei file o una cartella protetta da password per impedire altri utenti di accedere a quei dati per quanto riguarda la famiglia abbiamo gli strumenti di controllo per i genitori quindi classiche cose standard come detto per me l'assenza del firewall comunque è una grave carenza comunque andiamo a vedere il punteggio ottenuto da Trend Micro nei vari test dei siti web partendo da AV test abbiamo il test di febbraio 2021 qui non è presente Trend Micro Internet Security 17 abbiamo 5.5 alla protezione 6 alle performance e 5.5 all'usabilità quindi abbiamo un punteggio non altissimo comunque 98% è buono non abbiamo il massimo del punteggio comunque un punteggio abbastanza alto in generale andiamo a vedere invece su AV Comparative qui il test è stato pubblicato il 15 aprile ma è stato testato a febbraio e marzo quindi due mesi di test e qui abbiamo Trend Micro come uno dei migliori antivirus nel bloccare i file quindi ha bloccato il 100% dei virus testati con 14 falsi positivi quindi per errore ha bloccato 14 file che erano sicuri ritenendoli virus comunque invece per quanto riguarda i virus è riuscito a riconoscerli tutti e bloccarli tutti quindi è insieme ad Avast e AVG tra gli antivirus che ha ottenuto il punteggio più alto negli ultimi test andiamo ora invece a testarlo noi rapidamente con dei semplici test quelli che ho fatto anche per tutte le altre suite di sicurezza ovviamente questi sono simulazioni di virus sono assolutamente sicure servono solamente per vedere se l'antivirus li riconosce e li blocca iniziamo col classico ACAR Test Virus sito bloccato da Trend Micro Maximum Security perfetto quindi il primo è andato bene proseguiamo ci sta mettendo un po' a caricare non so se lo sta bloccando oppure no proviamo a ricaricare perché non succede nulla andiamo avanti terzo nulla anche qui vediamo eventuali notifiche assolutamente nulla riproviamo con la prima è stato bloccato sì ma in questo caso è stato bloccato dal vediamo se faccio mantieni sembra che non stia più bloccando nulla proseguiamo con Java ok qui abbiamo pop up bloccato ma ancora una volta da Edge pagina bloccata perfetto proseguiamo pagina bloccata sito web bloccato ok non si chiude la notifica proseguiamo pagina pericolosa bloccata pagina pericolosa bloccata ancora una volta ok ok le sta bloccando tutte ritorniamo adesso alle prime vediamo le prime no non le blocca questo l'aveva bloccato inizialmente adesso invece lo fa passare stranamente perché ok file rimosso perfetto no allora mi sembra di notare dei problemi con le prime due comunque sono dei problemi con Internet Explorer quindi probabilmente con altri browser non creano danni tutto il resto è stato tutto bloccato intanto ho una notifica riavviare il browser in uso riavvia in seguito devo dire allora per quanto riguarda la sicurezza credo che abbia bloccato tutto anche i due che effettivamente non mostravano nulla sì avrei preferito un messaggio di blocco anche in questo caso comunque non credo che sia passato nulla anche perché come è scritto non so dove è scritto comunque quando l'antivirus non riesce a bloccare si dovrebbe aprire la calcolatrice quindi praticamente l'unico problema che danno è questo oppure il browser si chiude improvvisamente si apre la calcolatrice il browser apre il file e non succede nulla è immune quindi va benissimo mostra l'errore ok quindi devo dire che ha bloccato tutto quindi dal punto di vista della sicurezza confermo quanto mostrato nei test di AV comparative non so perché ci sia questa differenza tra i due test perché qui dà il 100% mentre qui dà il 98% quindi su questo test gennaio-febbraio era probabilmente nei mesi successivi lo hanno migliorato quindi probabilmente hanno migliorato la sicurezza ancora un riavvio necessario no intanto mi ha chiuso la schermata sta facendo cose non visualizzare più usa protezione predefinita non capisco perché sta installando e configurando cose senza chiedere nulla ok riavviare il computer e completare l'installazione dell'ultimo aggiornamento va bene lo riavvierò dopo anche perché lo andrò a disinstallare comunque non posso testare il firewall perché come detto si appoggia a quello di windows farò velocemente comunque un test ma non ha senso perché non mi chiederà nulla permetterà sicuramente ai programmi di collegarsi ad internet senza mostrarmi i messaggi facciamo rapidamente comunque il test andiamo su lingua controlla online si collega online senza inviare messaggi mentre personalmente come ho detto anche se avete visto video degli altri antivirus preferisco un firewall che mi chieda se permettere o no ai programmi di collegarsi online in questo modo abbiamo un livello di sicurezza molto più alto quindi per quanto riguarda il firewall utilizza quello di windows quindi se vogliamo una sicurezza maggiore dovremmo necessariamente affidarci a un altro firewall andiamo quindi ora a vedere il mio punteggio personale a questa suite di sicurezza partiamo dall'installazione come ho detto troppi passaggi troppo lenta per un file di installazione di 440 mega quindi personalmente la ritengo leggermente inferiore a quella delle altre suite quindi per me il voto per l'installazione è 7 l'interfaccia grafica pulita buona intuitiva ritengo che ci siano poche impostazioni avanzate quindi per quanto riguarda l'interfaccia grafica il mio voto è 8 protezione antivirus in questo caso ha ottenuto il punteggio massimo su avcomparative un punteggio comunque abbastanza alto anche su avtest buono anche nei test che ho effettuato io anche se quelle due quei due due dei test non non hanno mostrato nessuna notifica quindi per quanto riguarda la protezione antivirus il mio voto è 9 protezione firewall non ha un suo firewall personale si appoggia a quello di windows aggiungendo delle migliorie che non sono specificate si dice che protegge maggiormente dai botnet ma non spiega più di tanto cosa fa non ci sono impostazioni personalizzate per il firewall quindi per quanto mi riguarda il voto sulla protezione del firewall è 2 leggerezza l'antivirus è leggerissimo non rallenta per niente nel sistema né la navigazione quindi è in linea diciamo con le altre suite quindi per quanto riguarda la leggerezza il mio voto è 9 prezzo inizialmente avevo detto che il prezzo era buono ma considerando che manca il firewall quindi non c'è uno strumento fondamentale per una suite di sicurezza non lo ritengo più così buono quindi per quanto mi riguarda il voto sul prezzo è 7 e quindi il voto totale alla suite di sicurezza di trend micro per me è 7 su 10 questo è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se utilizzate questo antivirus quale utilizzate se non ho ancora fatto un video sul vostro antivirus scrivetemelo nei commenti così lo farò il prima possibile vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo ciao